I Solari, di Anji Vaudan, 11 agosto 2020, dovete cambiare radicalmente i vostri modi di pensare fratelli e sorelle della Terra, figli e figlie dell'Uno, vi salutiamo, se vi rilasciamo di nuovo oggi queste parole, non è per spaventarvi maggiormente ma, al contrario per aiutarvi nella costruzione di un altro mondo, con ciò non vogliamo dirvi che la vostra Terra, così come la conoscete, verrà distrutta, ma piuttosto che dovete cambiare radicalmente i vostri modi di pensare, vogliamo dirvi che non potete più pensare semplicemente allo stare meglio, ad un benessere perché non avrebbe alcun senso nell'evoluzione del vostro mondo, avere più comfort, più cura, più denaro, non può essere un obiettivo, siete venuti per questo periodo di cambiamento radicale e non potete mancarlo, non si tratta dunque di un benessere maggiore, si tratta di considerare il mondo, la vita, la vostra vita in un modo totalmente diverso, i concetti che avevate sono destinati a scomparire per lasciare il posto ad un modo di vivere e a vedere la vita come non immaginate ancora, ci sarà altrettanta differenza tra il mondo che arriva e quello che conoscete quanto tra la preistoria e oggi, ve lo avevamo già dichiarato, non cercate di sapere come sarà quel mondo, coltivate semplicemente quello che vi sembra essenziale e tutto quello che onora la vita, il resto importa poco e sparirà a tempo debito, i nostri fratelli e sorelle dell'ombra hanno poca stima di voi e non hanno nessuna considerazione per le vostre rivolte e le vostre manifestazioni, sanno che le vostre rabbie nutrono i loro pieni e quello a loro basta, le guerre sono il loro campo, il fatto di sostituire una persona con un'altra nelle vostre istituzioni o i vostri governi, li diverte perché hanno truppe a loro servizio a sufficienza in modo che la sostituzione avvenga a loro favore, non immaginate le ramificazioni dei loro impianti, il movimento nazista, che hanno instaurato già da tanti dei vostri anni, non si è mai spento, ha preso altre sembianze, altri nomi, ma il suo operato è sempre presente, oggi, anche volendo, non potete più sapere chi dice la verità tra quelli e quelle a cui una volta davate fiducia, non c'è niente di vero in quel che vi viene detto, tutto è macchiato di falsità, che fare dunque, ci chiederanno alcuni di voi, i nostri fratelli e sorelle dell'ombra temono la vostra determinazione, il vostro potere creativo e la vostra coesione, sia essa tra di voi tutti e tutte oppure dentro di voi, non vi nascondiamo che i tempi che verranno vi chiederanno di eliminare la paura dalle vostre vite, organizzate delle reti parallele portatrici di speranza, siete autonomi, ve lo ripetiamo perché la penuria regna già su una parte della vostra terra, sperimentazioni genetiche, degne di quelle che hanno perso il grande continente di Atlantide, vengono sistemate per permettere all'essere umano di conservare la sua intelligenza tecnica ma di impedirli di pensare da sé, in modo autonomo, armi sofisticate, a loro volta sono pronte ad essere usate, però e ve lo diciamo di nuovo, niente può essere fatto senza il vostro consenso, la tecnologia non è niente di fronte al potere dell'amore, sappiate pure che energie libere saranno presto a vostra disposizione, ciò che oggi viene chiamato Tesla ha poco da spartire con quelle energie, amate quello che vive, rispettate i mondi degli esseri della natura, del popolo animale, degli esseri della terra cava, tutti sono pronti per la transizione e aspettano soltanto voi, siete potenti perché vi rimane ancora il potere di decisione e il potere di amare, siete coerenti con voi stessi, in modo da passare tra le maglie della rete vischiosa che circonda attualmente il vostro pianeta, operiamo accanto a voi, ma contrariamente a quello che potete sentire alle volte, non vi salveremo vostro malgrado, non vi viene chiesto di aspettare che altri agiscano al posto vostro, anche se si tratta dei nostri fratelli e sorelle ed altri pianeti, molti di noi sono già presenti fisicamente sulla vostra terra e operano nella materia del vostro mondo, il futuro del vostro pianeta è già stabilito, rimane da sapere come gestirete le curve prima dell'uscita dal tunnel, comunque sia, una luce smagliante sta alla fine del tunnel ed è lei che dovete tenere in mente nel più profondo di voi stessi, vi amiamo e vi salutiamo.